30 dipinti, 29 tele e una tavola di assoluto valore e di grande significato sia dal punto di vista della vicenda compositiva e sintattica che del protagonismo storico-artistico degli autori interessati. I capolavori saranno in esposizione da oggi 15 ottobre al 9 gennaio a Palazzo De Maio a Chieti, nell'ambito della mostra Vento Barocco, la forma dell'invisibile, organizzata dalla Fondazione Banco di Napoli, presieduta da Rossella Pagliotto e curata da Gianni Citro, presidente della Fondazione Meeting della Mare Crea, acronimo di Cultura, Religioni e Arte. L'evento è stato presentato insieme al vicepresidente della Fondazione Banco di Napoli, Vincenzo Di Baldassarre, al sindaco Diego Ferrari, al vice sindaco Paolo De Cesare. Un viaggio nell'arte sospinto dal vento del barocco, una mostra che è un potente percorso di bellezza, evidenziato da Gianni Citro. La bellezza delle cose nelle forme dell'arte, la bellezza delle parole, la bellezza di certi valori che poi vengono veicolati attraverso le forme dell'arte, attraverso le parole, sono la vera impalcatura della società, la struttura ossea di una società. Purtroppo ci sono dei percorsi che trascurano molto la dimensione della bellezza nell'educazione, anche a volte nella organizzazione e nella legislazione stessa. Questa mostra vuole richiamare l'attenzione sulla centralità, la essenzialità, la necessità della dimensione della bellezza per una comunità che voglia darsi la dignità di una comunità evoluta, civile, è una comunità che sa accompagnare i più giovani verso il futuro. La fondazione Banco di Napoli non vuole solo conservare la memoria, ma contribuire a crearla, sostenendo e organizzando mostre e attività culturali che siano in grado di lasciare il segno sui territori in cui vengono realizzate, ha detto la presidente Pagliotto. 15 giorni fa abbiamo inaugurato questa mostra spettacolare nell'archivio storico con gli abiti del maestro Capucci, quindi anche lì abbiamo abbinato l'Haute Couture, gli abiti di design di alta sartoria con i libri maggiori del nostro archivio storico che è il più antico e importante del mondo, raccoglie 500 anni di storia delle nostre comunità meridionali. Quindi è un filo rosso che lega la rappresentanza della fondazione nei territori del meridione che rappresenta. Una iniziativa che sono sicuro richiamerà molti turisti in città, ha detto il sindaco Ferrara. La cultura nelle sue varie declinazioni non fa parte solo dei beni immateriali, ma rende giustizia anche ad un territorio e ad una città come Chieti, che di cultura ne ha da vendere per un rilancio turistico e quindi economico.